Oggi vi farò vedere una delle carte strane che ho nel mio studio Questa è una carta termocromatica Significa che cambia colore in base alla temperatura Infatti è composta da cristalli liquidi che si avvicinano o si allontanano in base a quanto sono caldi Riflettendo così in maniera differente le onde luminose La temperatura di questa stanza è 20 gradi E la carta è semplicemente nera Ma guardate cosa succede se ci verso sopra dell'acqua calda La carta assume una colorazione verde-bluastra Se poi nello stesso punto, verso dell'acqua fredda, virerà sul rosa-giallino Fino a tornare al nero L'impronta poi resta sulla carta solo per qualche minuto o addirittura pochi secondi Che ne pensate? Fatemi sapere con un commentino per cosa usereste questa carta Grazie a tutti